Un appuntamento di solidarietà allo stadio Romeo Menti di Castellammare il 26 aprile alle ore 15 l'associazione infermieristica Attori per Amore col patrocino morale del comune di Castellammare di Stabbia organizza la partita del cuore quadrangolare di calcio di beneficenza con le seguenti rappresentative la rappresentativa Attori per Amore, la rappresentativa Attori e Cantanti Neomelodici la rappresentativa Amministrazione Comunale e la rappresentativa Istituti Scolastici Presentano la serata Milena Renella, Maria Sorrentino e Lello Fioretti Interverranno i noti attori Benito Gaudino Raimo, Giovanni De Filippis, Angelo Giannelli, Giovanni Languella, Antonio Ciccone, Ciro Petrone, Ciro Armenino, Gioacchino Davice, Mario Santocchio Regista e ci sarà inoltre la partecipazione dei seguenti artisti della canzone napoletana Alessio, Antonio Rosario Miraggio, Iscio Sciambo, Callino Calone, Enzo Criscuolo, Luca De Vivo, Mimmo e Michele Taurino Pino Parisi, Mimmo Moreno, Pino Giordano, Daniele Marciano, Marco Raffaello, Leo Ferrucci, Nando Mariano, Manuel, Mirco Pastore, Gino Coppola Checco Dani, Luciano Caldore, Toni Dell'Anno, Gigi De Falco, Carmine Di Tommaso, Lello Pica, Nino D'Auria, Sasa Giordano, Enzo Di Palma e il piccolo Sasi Madrine della Serata, Nancy, Rossella Feltri, Fortuna, Emanuela Biondi e Alessia Cacace Per tutte le info 392-88-77-485 Si ringrazia per la fattiva collaborazione L'agenzia Castle Music, la House Music Animation L'associazione musicale Cantiamo Napoli, Metropolis TV Si ringrazia ancora Stabia Channel, Teleangri, Radio Orion, Radio Onda Verde e Radio Sant'Anna Quindi mi raccomando, dai anche tu un calcio al sociale Vieni il giorno 26 aprile alle ore 15 allo stadio Romeo Menti Per la partita del cuore Noi ci saremo Aspettiamo sulla T